un saluto da riad no 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 alzala nonno alzala un saluto da riad mio cosino mio cosino mio cosino mio cugino mio cugino mio cugino mio cugino che partisce sono stanco sono vai no no alzala alzala no no alzala io l'ho l'ho alzata anch'io prima con mio cugino lautaro vai 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 così vai così un saluto da riad stiamo tornando un saluto da riad lautaro martinez mio cugino mio cugino minchia talia 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 sta festeggiando talia talia hai una coppa minchia come mi brucia il culo minchia come mi brucia il culo talia talia stanno festeggiando minchia come mi brucia il culo ah come mi brucia il culo ah minchia adesso si riposano e tornano incazzate minchia come mi brucia il culo io vado a dormire lavi i denti e vado a dormire latte latte socia ragazzi socia ragazzi prima di tutto socia ragazzi non si può fare non si può fare una finale del genere dopo due giorni e l'inter aveva pure un giorno di meno non si può ma non si bisogna cambiare modo ma non si può però io me lo aspettavo lautaro è io me me lo aspetta quando ho visto che non ha tolto lautaro sono detto vuoi vedere che è infatti è arrivato lautaro ma doveva arrivare ma molto prima il napoli ha zoccato per andare ai rigori il napoli cosa ha fatto a cosa ne fa ha zoccato per andare ai rigori basta sono rigori il mio bologna c'è lo sapevo io che lautaro prima o poi facevo a go c'è ma non me l'aspettavo più mi aspettavo i rigori c'è le corno quando è forse attaccante c'è lo vorrei io alla juventus lo vorrei lautaro capì c'è quando è fuori io lo sapevo ho detto adesso lautaro all'ultimo minuto mamma mia c'è le corno mamma stasera rimaniamo con il tremolo i tremolo rimaniamo con i tremolo rosico 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 ma che re ma ma un napoli è proprio fornuta è fornuta un napoli ma manca la supercoppa capì ma zara ma che stai facendo ma zara hanno piazzato al piazzato il regolo ha piaccio avvicinato il petto del regolo come va? mi hanno fatto il rotto non ti rinvore A ma zara con i toti che c'è la supercoppa e al regolo è proprio fornuta a questo dove vorrei la supercoppa capì ma non mi hanno fatto il rotto non ti rinvore la camera troppo è proprio la supercoppa e non è proprio ferrata un patoli ma non mi hanno fatto il rotto di Pallonate, non ne piate, non ne piate appallonate, manzare. Lo sapevo io, ero con gli amici e ho detto questa la porta a casa Lautaro, lo sapevo io. Come lo vorrei al Milan Lautaro, porca puntata. Lo sapevo, infatti l'ha lasciato dentro Lautaro e io lo sapevo, capito? Adesso arriva, capito? E così, anche se non giocano bene, poi si vedeva che erano tutti stanchi. Anche i tifosi erano stanchi, non si può fare queste partite ravvicinate perché una finale è una finale. Comunque Inzaghi ci ha ciulato il primato delle Supercoppe, ragazzi. Organizziamoci, Pioletta, Pioli, organizziamoci qua, stelle. Rosico, cazzo, rosico. Bau! Bau, merda! Bau! Bau! stavo aspettando che la portavamo a casa, sì. Si sono decisi, Lautaro ha messo fine all'agonia, possesso palla. Li abbiamo chiusi per 50 minuti sulla loro porta. falli come, cioè, quelli, Simeone, sei un coglione, c'hai capito? Avevano il loro obiettivo con questo trofeo. È il Napoli, è svanito, non c'è più niente ormai. Adesso fateci riposare e stiamo tornando. Gobidi, eh, io non posso dire le parolacce, sono una signora fine. Gobidi, merda. Oh, mi è scappato! Questo qua è il video dei personaggi. È il video dei personaggi. Andate a che gare. Fateci riposare, fateci ricaricare le pile e, topini, stiamo tornando. Testa alla Fiorentina e stiamo tornando. Tranquilli. Cialanoglu ritorna proprio con la partita con i gobbi. Perfetto. Buonanotte. Ciao. Lo vorrei, Lautaro, lo vorrei una nottata con me. Lo farei di fruste. Con la frusta lo prenderei, Lautaro. Madonna, come erosico, come sono irritata, come sono irritata. Non perdono neanche morti questi qua. Mamma mia, come sono irritata. Oh, mamma mia, le fruste, le fruste. Sono troppo irritata, guarda. Stiamo attenti perché si riposano e tornano questi qua. Irritata. Oh tu di Agropoli. Oh tu di Agropoli. Chiamami.